Ehi, vedo movimenti, lato destro. I nostri al teatro sono nella stessa nostra situazione. Appena spaziamo via i tedeschi ne sfondano fuori altri. Siamo nel loro territorio, è tutta un'altra storia. Se vogliono un massacro, è quello che avranno. Non hanno speranze contro di noi. Loro sono convinti del contrario. Squadra Panzershack! Fanteria tedesca, armi leggere. Siamo attaccati i nostri. Siamo attaccati i nostri. Siamo attaccati. Siamo attaccati. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti